L'Italia è pronta per la terza dose di vaccino, già da settembre si partirà con i pazienti fragili, lo ha annunciato il ministro Speranza al termine del G20 sulla salute. La campagna vaccinale procede per raggiungere l'80% di immunizzati per fine mese mentre il governo è a lavoro per l'estensione del Green Pass. Oggi il ministro della salute e della scuola Bianchi riferirà in Parlamento sul rientro in classe in sicurezza. Il reddito di cittadinanza riaccende le tensioni politiche soprattutto all'interno della maggioranza. Conte difende la misura, Draghi non lo cancellerà perché lo condivide, ha detto il leader 5 Stelle. Va cancellato o modificato, ha risposto Salvini, affonda anche di Renzi che propone un referendum per abolirlo. Nel governo cauto il ministro Giorgetti che ipotizza modifiche perché si trasformi in lavoro di cittadinanza. L'Ocse rivede al rialzo i dati dell'economia italiana per il 2021, prevista una crescita del PIL del 5,9% mentre si tornerà ai livelli pre-Covid nei primi sei mesi dell'anno prossimo. Positivo il giudizio del ministro dell'economia Franco. Saranno necessari per una crescita ancora più forte, dice una maggiore occupazione, più investimenti e riforme strutturali che vadano a colmare i punti critici dell'Italia. In Afghanistan i talebani hanno annunciato di avere il controllo anche della valle del Panjshir, ultima roccaforte dei ribelli, ma il fronte della resistenza giura di non aver ceduto e il leader Massoud lancia un appello alla rivolta nazionale. La Russia intanto ha annunciato che riconoscerà il governo talebano solo se sarà inclusivo. Le 7.30, buongiorno da tutti voi, da tutti noi, scusate, in primo piano i lavori del G20 dei ministri della salute chiusi ieri a Roma con un documento sottoscritto da tutti i partecipanti all'unanimità. Da tutti è arrivato il via libera, la terza dose vaccinale e la vaccinazione che deve essere estesa a tutti i paesi più fragili, a quelli più poveri. Ma facciamo il punto nel servizio di apertura. L'Italia è pronta per la terza dose di vaccino. Già da settembre si partirà con i pazienti fragili, gli oncologici, i trapiantati, gli immunodepressi, chi soffre di una malattia cardiovascolare, una categoria ampia di persone. Sulla necessità di destinare l'orlo a terza dose di anticovid si è già espressa all'Agenzia Europea del Farmaco. Dopo Draghi, lo ha detto il ministro Roberto Speranza a Roma al termine del G20 sulla salute ed ha annunciato a breve anche l'estensione del Green Pass. Quindi si passerà la terza dose agli anziani, gli ultraottantenni sono 4 milioni e mezzo, agli ospiti dell'RSA sono 600 mila ed hanno già pagato un prezzo enorme. Ora, dice Speranza, abbiamo raggiunto un livello alto di protezione e non possiamo perderlo. EMA sta già valutando la possibilità di estendere a tutti al di sopra dei 16 anni. La terza dose di vaccino Pfizer ha sei mesi dalla seconda. Questo per ripristinare la protezione dal virus che è diminuita, come si è già visto nei paesi che hanno iniziato prima a vaccinare, Israele, Gran Bretagna e Stati Uniti. I 20 potenti del mondo hanno firmato un accordo comune, Patto di Roma, per vaccinare i paesi più poveri. Se lasceremo una parte del mondo senza vaccini, hanno concluso i 20, avremo nuove varianti. Tutti hanno diritto di curarsi, la salute è un bene comune e pubblico. È finito il momento dei tagli sulla sanità, le diseguaglianze tra paesi sono insostenibili, dicono i potenti. Non basta assicurare i vaccini a paesi più poveri, occorre produrli sul posto per consentire l'autonomia agli stati più fragili. E prosegue dunque la campagna vaccinale con i dati che sembrano confermare una lenta decrescita dei casi. Intanto però non si fermano anche le contestazioni dei cosiddetti Novax. La procura di Torino ha chiesto di oscurare una chat sul Telegram ipotizzando i reati di istigazione a delinquere e violazione della privacy. Vediamo. È da una settimana che i nuovi casi Covid lentamente si riducono. Un trend discendente confermato dai dati di ieri, nonostante nel computo del lunedì rientri un numero inferiore di tamponi processati nel fine settimana. Sono 3.361 contro gli oltre 5.000 di domenica e nuovi positivi a fronte di oltre 134.000 tamponi. Il tasso di positività sale così al 2,5%, 52 le vittime. In lieve calo gli ingressi nelle terapie intensive con i 32 ricoverati di ieri sono in tutto 570 i pazienti in condizioni critiche. I ricoveri ordinari nelle parti Covid aumentano di 86 unità, 4.302 in tutto. Numeri confortanti, frutto della massiccia campagna vaccinale che procede spedita, nonostante l'avversione dei Novax scese in piazza in manifestazioni non autorizzate che non hanno poi avuto quella grande partecipazione annunciata. Non solo convocazioni via social, ma anche minaccia a medici, giornalisti ed esponenti politici, la pubblicazione di indirizzi e numeri di telefono contro cui sfogare la propria rabbia. Per questo la Procura di Torino ha chiesto di chiudere la chat su Telegram Basta Dittatura, principale canale di comunicazione dei gruppi Novax e No Green Pass. Istigazione a delinquere, violazione della privacy, reati ipotizzati dai magistrati torinesi che aspettano la risposta del GIP al decreto urgente, sperando nella collaborazione volontaria del canale. Se così non fosse, sono pronti ad avviare un erogatorio internazionale. Altra Procura che indaga dopo i cortei delle scorse settimane è quella di Roma. Ieri gli agenti della Digus hanno perquisito le abitazioni di cinque dirigenti romani di Forza Nuova, tra cui uno dei principali organizzatori delle manifestazioni contro il certificato verde Giuliano Castellino. È stato trovato materiale che sarebbe stato utilizzato durante i ritrovi in piazza e è considerato pericoloso l'ipotesi che il gruppo stesse preparando una manifestazione non autorizzata. Nei prossimi giorni potrebbe scattare l'iscrizione nel registro degli indagati per i cinque fermati. E a proposito di Covid e di Green Pass, ieri lo saprete, sono riniziate le elezioni. È iniziato di fatto l'anno scolastico, è iniziato in Alto Adige, nella provincia autonoma e poi gradualmente riprenderà nel corso dei prossimi giorni in tutto il paese. Ci sono registrati però dei casi nei quali i docenti si sarebbero dimessi proprio perché contrari all'obbligo di dover esibire il Green Pass. Oggi riferisce in Parlamento il Ministro Bianchi. A tenere banco adesso è la questione delle mascherine. Il Ministro dell'Istruzione Bianchi è tornato sulla possibilità di toglierla in classe se tutti sono vaccinati. È un segnale forte di normalità, ha ribadito, ma la proposta ha sollevato non pochi dubbi anche tra gli esponenti del mondo scientifico che hanno invitato alla cautela. Favorevole il Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Giannelli, ma con una riserva che riguarda la tutela della privacy degli studenti. Le linee guida sono in corso di elaborazione con il Ministero della Salute e il Garante della Privacy, ma sono attese non prima della fine del mese e quindi questa possibilità probabilmente slitta. Resta il distanziamento di un metro, ma se non è possibile mantenerlo è necessario applicare tutte le regole di precauzione, compresa la finestra aperta per cambiare aria. Solo alcuni istituti scolastici hanno acquistato dispositivi per la ventilazione forzata. Riaprono le mense scolastiche, quasi pronta la campagna di tamponi salivari per i più piccoli scuole sentinella. Il nuovo anno scolastico comincerà con tutti gli insegnanti in cattedra che il Ministero è riuscito a nominare. 59.000 le assunzioni su 112.000 posti vacanti, già scelti 90.000 supplenti. Per quanto riguarda l'obbligo del Green Pass per il personale scolastico, la piattaforma del Ministero per il controllo automatico dovrebbe arrivare il 13 settembre, quando rientreranno in classe gli studenti nel resto d'Italia. La super app realizzata da Sogei renderà più veloci i controlli. Ieri intanto è partito l'anno scolastico nella provincia autonoma di Bolsano, circa 50 docenti senza la certificazione verde e salvo ripensamenti dell'ultimo minuto saranno sospesi. Già 20 gli insegnanti che si erano dimessi negli ultimi giorni. Ma prendere posizione contro l'obbligo del certificato verde in un'università è stato un gruppo di docenti, vaccinati e non, che ha sottoscritto un appello contro la sua natura considerata discriminatoria in contrasto con la Costituzione. Il Green Pass, non solo ma soprattutto il reddito di cittadinanza, animano, sono i temi che animano il dibattito politico e il confronto politico di queste ore, soprattutto tra 5 Stelle e Lega. Però non mancano anche gli spunti polemici da parte dei fratelli d'Italia e da parte del PD con il segretario Enrico Letta. Vediamo. Se l'obiettivo di Conte e Salvini era quello di rubare la scena dandosele, verbalmente parlando di santa ragione sul reddito di cittadinanza, ci sono perfettamente riusciti. Durissimo Conte che definisce vigliacco chi attacca il reddito, garantito da uno stipendio parlamentare. Sono il primo firmatario di un emendamento in finanziaria che cancella questa misura, che dà i soldi a chi non ha voglia di lavorare. La replica secca di Salvini. Botta e risposta con Conte che, disponibile a modifiche, avverte. Draghi condivide la misura. Cancellarlo significherebbe rompere un patto di lealtà. Avvertimento che sembra rivolto non solo alla Lega. Approvarlo è stato un errore e ora non sono solo a chiederne la cancellazione e la svolta di Salvini, che era con Conte al governo giallo-verde che varò il reddito. Diamo quei soldi al lavoro e all'impresa. Sono convinto che quei 700 euro dati a un imprenditore che assume una persona abbiano un senso, attacca ancora il leader. Del carroccio affiancato dal suo numero due, Giorgetti, che in un ormai consolidato ribaltamento dei ruoli boccia solo parzialmente il reddito, che dice può essere trasformato in lavoro di cittadinanza. Il duello Lega 5 Stelle interno alla maggioranza coinvolge anche gli altri partiti. Dall'opposizione ribadisce il suo giudizio totalmente negativo Giorgia Meloni, che ha definito metadone di Stato il reddito di cittadinanza, mentre Renzi insiste con il referendum per abolirlo. Con i 5 Stelle ne sostengono invece le ragioni l'EU e anche il PD, allineato con qualche voce dissonante nel sostegno alla misura. Necessaria contro la povertà, che può essere migliorata, concede il segretario Letta. Proprio dalla commissione incaricata dal governo di verificare gli effetti del reddito di cittadinanza potrebbe arrivare la mediazione, che riesca a evitare lo strappo. Risposta che arriverà dopo il voto amministrativo. Dovrà tenere conto anche delle osservazioni dei rilievi dell'Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. L'assegno ha tutito la povertà, ma va ridotto anche perché pochi trovano un impiego, il suo giudizio. E a proposito di sviluppo economico, parliamo dell'economia perché la crescita del PIL, il prodotto interno lordo per quest'anno, sarà del 5,9% maggiore rispetto alle previsioni del 4,1% per il prossimo anno. A dirlo è l'Ocse che però osserva, resta preoccupante la crescita del debito pubblico. Vediamo. L'economia italiana tornerà ai livelli pre-pandemia entro la prima metà del prossimo anno. Non prima è l'Ocse, a dirlo, che migliora però le stime del PIL di quest'anno, invitando a continuare sulla strada del sostegno fiscale sempre più mirato fino a quando la ripresa non sarà consolidata. Il ministro dell'economia Franco accoglie con molto piacere i dati e rilancia puntiamo a una crescita post-Covid che sia più alta rispetto alla media del periodo pre-pandemia, ma saranno necessarie, avverte, una maggiore occupazione, maggiori investimenti e riforme strutturali che vadano a colmare i punti critici dell'Italia. Le stime dell'Ocse dicono che la crescita del PIL per quest'anno sarà del 5,9%, maggiore delle previsioni precedenti e del 4,1% il prossimo anno. Arriva poi un monito sul debito pubblico che resta tra i più alti della zona euro. Il rapporto con il PIL è del 159,8% quest'anno e sarà del 156,3% il prossimo. Il direttore generale dell'Ocse avverte che la politica fiscale deve essere riorientata in maniera tale da stimolare una maggiore crescita e la creazione di posti di lavoro. In particolare il cuneo fiscale è il quinto più alto nell'area Ocse, cosa che non aiuta l'occupazione in un paese in cui solo il 57% della popolazione è occupato contro una media del 67%. Arriva anche un invito a contenere la spesa pensionistica, abbandonando quota 100 e la cosiddetta opzione donna nel dicembre 2021. Si legge nel rapporto, cosa che peraltro il governo, come ha ricordato lo stesso Franco, si appresta comunque a fare. E poi il reddito di cittadinanza che ha contribuito a ridurre il livello di povertà delle fasce più indigenti della popolazione, dice sempre l'Istituto francese, ma il numero di beneficiari che hanno poi trovato impiego è stato minimo. Le notizie dall'estero partiamo dall'Afghanistan perché i talebani confermano di avere conquistato la provincia del Panjshir. Notizia invece che viene smentita con il leader della resistenza Massoud che invece invita a continuare la lotta. I talebani hissano la bandiera e dichiarano la valle del Panjshir è stata interamente conquistata. Il cuore della resistenza afghana, l'ultimo fronte che però non si arrende, rilancia la rivolta solitaria contro il regime oscurantista. Oppositori, ex militari, disertori riuniti sotto Hamad Massoud, figura emblematica, figlio del leone del Panjshir, ucciso esattamente 20 anni fa alla vigilia dell'11 settembre. Dopo l'offensiva Massoud insieme all'ex vicepresidente Amrullah Saleh sarebbe fuggito in Tajikistan, da dove avrebbe inviato un messaggio per far sapere di stare bene. E mentre i combattimenti continuano a Kabul si va formando il nuovo governo che avrà quasi certamente al vertice il Mullah Baradar, rientrato nel paese dopo aver negoziato con gli americani a Doha la ritirata. Un balzo all'indietro di vent'anni tra esecuzioni sommarie, persecuzioni e negazioni dei diritti fondamentali, in particolare delle donne, costrette a classi separate per poter continuare a frequentare i corsi universitari. Una situazione di cui riferirà oggi in Parlamento il ministro degli esteri Luigi Di Maio, fino a ieri in Pakistan e in Qatar, a Doha, dove ha annunciato che sarà ricollocata l'ambasciata italiana. Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa a 88 anni di Jean-Paul Belmondo, era patrimonio nazionale e resterà per sempre il magnifico. Questo è il commento del presidente francese Emmanuel Macron. Vediamo. Riprenditelo, non c'è l'oroscopo. Che cos'è l'oroscopo? La lunga avventura di Jean-Paul Belmondo poteva anche finire lì, proprio dove era cominciata, con quel fino all'ultimo respiro che nel 60 buttò all'aria le regole del cinema, con il regista Godard che trovò in lui il perfetto anti-eroe in un film immortale. E invece quello fu solo l'inizio di una carriera lunga 90 film, che una decina d'anni più tardi aveva già avvarcato ogni confine, rendendolo un vivo a tutti gli effetti. Tra gli anni 60 e i 70 lo veneravano anche da noi, insieme al suo eterno amico rivale Alain Delon, con cui formò la vera supercoppia, perfettamente assortita, del cinema mondiale, disposta poi anche a ridere di se stessa. Ma a differenza che per Delon, per Belmondo, in fondo il cinema sembrò sempre un divertimento. Perfino quando moriva, figuriamoci quando doveva scatenarsi, sempre senza controfigure, lui che come Jean Gaben aveva fatto il boxer, le panni di personaggi quasi sempre ritagliati su di lui, uno intitolato addirittura Le Magnifique, diretto da registi amici suoi, con le donne che piacevano a lui, in film il cui successo contava sì, ma in fondo nemmeno tanto. Anche per questo non cedette mai alle sirene hollywoodiane, ho preferito restare Chémois, diceva, lui che della Francia è stato il volto, il corpo più simpatico che si potesse incontrare sullo schermo. Perché qualsiasi parte interpretasse, Belmondo è stato sempre Belmondo, cinico ma sincero, animato da anarchica vitalità, ma allo stesso tempo da un'invincibile fragilità esistenziale, acuita naturalmente con gli anni, quando tornò al cinema per un remake, manco a dirlo, francese di Umberto Di. E adesso lo sport, domani la Nazionale di Calcio chiude il suo triplice impegno nelle qualificazioni per i mondiali in vista della Lituania, danno però forfè Verratti e Pellegrini. Alle prese da diversi giorni con problemi fisici, Verratti e Pellegrini sono stati liberati dal CT Mancini, che ha deciso ieri di non procedere ad altre convocazioni per la sfida di domani sera a Reggio Emilia. L'impegno contro la Lituania, che occupa la posizione numero 134 della classifica mondiale, non deve certo mettere paura agli azzurri, neanche in questo momento decisamente opaco. Ma a causa del doppio pareggio contro Bulgaria e Svizzera non ci sono piani B. L'Italia dovrà fare bottino pieno non soltanto domani, ma anche nei decisivi match di novembre. Il 12 un vero e proprio spareggio a Roma con la Svizzera, il 15 la trasferta in Irlanda del Nord, con la speranza che il pass per il Qatar sia già stato stampato. Ma ha evitato a tutti i costi il rischio play-off, risultato che ci fu fatale nel 2017. Ieri Giorginio, oltre a scusarsi per l'errore dagli 11 metri, ha rivolto una frecciata velenosa. A chi chiede se crediamo in noi stessi rispondo certo che sì, anche perché se non lo facciamo noi, chi crede in quest'Italia, voi di certo no. Ma al netto delle polemiche a preoccupare, ma il problema risale a prima dell'avventura europea, è la carenza di peso in attacco della squadra di Mancini. Il CT continua a difendere Immobile, che ovviamente è destinato a sbloccarsi in maglia azzurra, perché per il momento non ha fiducia assoluta nelle possibili alternative, dall'infortunato Belotti a Scamacca, Raspadori e Ken. Deve fronteggiare guai peggiore il suo vicino di panchina di domani, il tecnico della Lituania, Ivanauskas. Il risultato positivo al Covid non sarà in Italia per la partita di Reggio Emilia. Lo sostituirà il suo assistente, Thomas Razanauskas. Il mondo del calcio è in ansia, in queste ore per la salute del grande Pelé, tre volte campione del mondo con il Brasile. Ricoverato in ospedale da sei giorni, la leggenda del calcio ha voluto fare chiarezza tramite Instagram. Sono stato operato per un tumore al colon, si legge, in questi giorni sono sempre rimasto cosciente, affronterò con il sorriso sulle labbra, anche questa sfida la vincerò. Ho sopra il posto una foto di Orei sorridente con la maglia del Brasile. Pelé, 81 anni ad ottobre, aveva deciso la settimana scorsa di svolgere alcuni controlli di routine che aveva rimandato a causa del Covid. Soltanto al termine di queste analisi i sanitari hanno consigliato l'ex calciatore di sottoporsi ad un intervento d'urgenza. E chiudiamo con il tennis, con gli UOS Open. Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale del torneo statunitense. L'Azzurra ha sconfitto in 4-7 il tedesco Oscar Ott e adesso affronterà il numero uno del mondo Novak Djokovic, colui che lo ha battuto quest'anno nella finale di Wimbledon. Niente da fare invece per l'altro italiano in gara, Yannick Sinner, l'alto attesino, ha perso in 3-7 contro il giocatore più in forma del momento, Alexander Zverev, campione olimpico in carica. 7.48 minuti, io mi fermo qui. Adesso ci sono tutti gli aggiornamenti sulla viabilità autostradale. Ce li dà tra qualche istante Valeria Colombo, poi torna come sempre Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo. Poi Andrea Pennacchioli conduce il dibattito tra i suoi ospiti Beatrice Lorenzin, Pierpaolo Bombardieri. Poi a seguire c'è Coffee Break condotto da Andrea Pancani. Tra gli ospiti Marco Rizzo, Barbara Salta Martini. Lia Quartapelle. Grazie a tutti voi per averci seguito. Ci vediamo domani. Una buona giornata.